Ciao, nome e cognome, cosa ti aspetti da questo viaggio? Ciao, io sono Diana Gaggero e da questo viaggio mi aspetto comunque un accrescimento professionale e quindi di mettere delle basi per diventare un lookmaker. Come è andato il casting? Bene, bene, sono rimasta molto soddisfatta sia del lavoro che ho eseguito sulla mia modella e comunque sul colloquio che c'è stato con i giudici. Sì, molto, tantissimo. Cosa porti a casa di nuovo? A casa di nuovo porto tutto quello che è stato la formazione che sicuramente è stato il punto di forza di questa esperienza e sicuramente un sacco di amici nuovi. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ciao. Ciao.